Coronavirus universitari esclusi dai fondi regionali destinati all'acquisto di tablet e pc, complicato a partecipare alle lezioni online senza strumenti essenziali. Una criticità messa in evidenza dagli studenti medi Sicilia e dall'Unione degli Universitari di Palermo. Matteo Norcia, coordinatore provinciale dell'Udu, spiega il problema a nostro avviso centrale di questo provvedimento è che non tiene conto minimamente della condizione in cui questo momento versa il fronte universitario. Ormai dal 9 marzo infatti le università di tutta la regione hanno avviato le modalità di svolgimento della didattica online. Il provvedimento dunque risulta fortemente lacunoso, in primis per tutti gli studenti universitari che non possono permettersi l'acquisto autonomo di strumenti digitali per frequentare le lezioni e sostenere gli esami della sessione di aprile che verrà garantita anch'essa secondo modalità online, rischiando di compromettere il percorso di studio degli studenti meno abbienti, considerando anche che non tutti i testi sono liberamente consultabili in digitale. Chiediamo dunque a gran voce che la regione ampli il provvedimento, prevedendo una volta e per tutte la copertura totale degli idioni alle borse di studio, così da mettere tutti e tutte nelle stesse condizioni di proseguire il proprio percorso universitario senza ulteriori complicazioni. In un momento complesso come questo, la vicinanza delle istituzioni regionali ai propri studenti deve essere massima. Anche sul fronte delle scuole di secondo grado la situazione non è così rosea. Nonostante questo provvedimento preso dalla regione, veniamo a conoscenza del provvedimento con lo stanziamento di 970.000 euro per i quali i dirigenti scolastici possono presentare delle istanze per un importo massimo di 2.500 euro. Continua Giuseppe Barresi, coordinatore regionale della rete degli studenti e me di Sicilia. Per quanto questa scelta possa essere un passo avanti da parte del governo regionale, non è di certo sufficiente. I fondi stanziati non basteranno a coprire le esigenze degli studenti e delle studentesse che in questo momento si stanno trovando in difficoltà a seguire la didattica online per mancanza di strumenti o varie impossibilità personali. Ormai ci sembra sempre più evidente come nonostante vengano stanziati una tantum dei finanziamenti da parte della regione sul mondo della scuola e dell'università, questi non siano mai sufficienti. Non è ammissibile che vengano lasciati indietro centinaia di studenti e che non venga loro garantita appieno la possibilità di poter fruire della didattica online.